Ciao a tutti ragazzi sono Orko Verde in questo video vi farò vedere un nuovissimo glitch per avere la pistola storditore in free mode prima di cominciare ad eseguire il glitch dovrete scaricare l'attività che vi lascio in descrizione questa attività c'è solamente su PS4 ed Xbox One sulle console old gen e per PC purtroppo non ho trovato nessuna attività che vi permette di avere la pistola storditore quando avrete scaricato l'attività tramite social club dovrete andare su GTA 5 online dovete essere in una sessione privata dopodiché dovrete aprire il menu di pausa dovrete andare su online attività avvia attività preferite cattura e dovrete avviare la cattura che avrete appena scaricato tramite social club la cattura si chiama enjoy the free nelle impostazioni di questa attività dovrete andare su blocca armi e dovrete impostare possedute più raccollibili a questo punto confermate le impostazioni ed invitate un giocatore che dovrà unirsi per poter iniziare l'attività a questo punto premete X sull'opzione gioca ed iniziate l'attività quando sarete sfonati all'interno della cattura dovrete raccogliere la pistola storditore che sarebbe la pistola che state vedendo ora nel video vi basterà raccoglierla e una volta raccolta potrete cazzeggiarci in cattura oppure per trasportarla in free mode dovrete semplicemente aprire il telefono e abbandonare l'attività quando sarete sfonati in free mode avrete tra le armi la pistola storditore l'unica cosa brutta è che quando cambierete sessione quest'arma scomparirà dalle armi per cui dovrete rifare i glitch per poterla riavere nella sessione quindi in free mode una cosa che mi ha divertito un sacco in quei pochi minuti che ho utilizzato questa pistola in free mode se sparerete con questa pistola contro i civili i civili urleranno come se li stessi stuprando e devo dire che questa cosa non è affatto normale però devo dire che mi ha divertito davvero un sacco sentire urlare i civili in questo modo comunque sia vi farò sentire la clip a fine video quando avrò concluso la intro finale per cui niente ragazzi spero che questo video vi sia piaciuto lasciate un like, un commento iscrivetevi al canale contividete questo video sui social network e da Orko vedo tutto ci vediamo al prossimo video bella fuck iscriviti Is this really happening?